E gli orrori superano ogni immaginazione La vostra forza viene meno Odia me Piuttosto che diventare come quei demoni mi toglierei la vita io stesso E gli orrori superano Non è ancora il momento E gli orrori superano 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 Grazie a tutti. 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 Leda sa dove si trova il prossimo frammento, ma le sue parole sono un enigma. Ha detto che si trova dove solo gli antichi possono avventurarsi. Mi fa pensare al Tempio Sommerso vicino alla foresta potrescente. Ricordo che me ne hai parlato, zio. Esattamente, Lea. Il Tempio era la dimora dei Nephilim. Lea, la tua conoscenza potrebbe essere inestimabile. Devi andare ad aiutare la nostra amica affinché trovi il frammento. I Nephilim erano un popolo dell'antichità con poteri incredibili. La leggenda dice che combatterono una tremenda... In questo frammento è contenuto un potere antico. Proprio così. Mi è familiare. Nonostante il resto sia ancora oscuro. Un'arma di valore per un guerriero di valore. Se questo è ciò che sono, allora con la memoria ho perso anche la forza. Dai tempo al tempo. Credo che la tua memoria non sia perduta. Solo annepiata. La congrega di Magda è ciò che rimane dell'antico culto della Trinità che adorava i primi maligni come dei. Ma sono morti. Chi venerano adesso? Rimangono gli ultimi due maligni, Azmodan e Belial. E se dietro questa congrega si cela uno di essi, allora i nostri problemi sono solo all'inizio. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.